Presidente, noi non vorremmo essere maleducati né scortesi perché come sempre siamo persone per bene ma credo che qui c'è gente che da stamattina ha presenziato con rispetto verso le istituzioni credo che questo lo dobbiate a questa gente e credo che questa cosa la voglio dire a tutti visto le situazioni che il commercio oggi è in situazioni drammatiche io credo che la responsabilità che voi dovete assumere oggi al di là del documento, al di là delle chiacchiere o delle cose positive credo che questa cosa in senso di responsabilità sappiate che comunque noi come ho detto prima non è che oggi o domani pomeriggio si fa la riunione e si pensa che questo ragionamento finisce qui questo è l'inizio perché credo che noi tutti stiamo testimoniando civilmente una sofferenza che viene fuori da lontano e se qualcuno pensa di risolvere il problema col cordolo sì cordolo no ha sbagliato l'impostazione noi riteniamo che c'è un piano della mobilità urbana che c'è da anni fermo lì e noi al prossimo consiglio comunale perché noi il prossimo staremo qui e più di prima il prossimo consiglio comunale al di là dell'incontro di domani noi o vogliamo ed esigiamo cose concrete o diversamente credo che al di là con tutto il rispetto per il prefetto, per il questore, per la DICOS a cui noi portiamo grandissimo rispetto alle istituzioni tutte noi andremo a mettere in campo una protesta forte poi ognuno si assumerà la propria responsabilità quindi voi avete una grande responsabilità verso padri di famiglia e genitori che verranno qui ed è possibile che si possono assumere commettendo anche delle situazioni che mi auguro che non degeneri quindi la responsabilità che avete come padri di famiglia è di dare delle risposte a queste imprese perché ricordatevi che il piccolo commercio dà lustro a questa città e voi che vivete in Taranto sapete benissimo cosa significa via via Prince Medeo e via Anfiteatro dove hanno chiuso e non soltanto quello anche il centro quindi la responsabilità è tripla quest'anno le luminarie non si faranno perché il commercio ha deciso di non partecipare perché l'anno scorso ha partecipato in modo importante io mi auguro che vi mettiate la mano sulla coscienza perché c'è una città al buio e date delle risposte quantomeno per chi viene in città io ve lo dico con il cuore in mano la responsabilità di un presidente sta a sia canalizzare le proteste e le responsabilità di questa gente che io insieme a loro ne soffriamo tutti i giorni ma sappiate che sarete voi responsabili di quello che saranno le situazioni e le iniziative di questa gente vi ringrazio a tutti